Nella crisi dei migranti bisogna mettere mano al portafoglio e lo devono fare tutti perché non è possibile che i soldi ce li mettano solo l'Italia, la Germania e l'Unione Europea. Nel primo giorno del vertice di Abidjan in cui l'Unione Europea e l'Unione Africana si confrontano su come incentivare l'economia del continente nero e frenare di conseguenza le migrazioni, il Presidente del Consiglio Italiano, Gentiloni, richiama con durezza i partner europei, chiede ad ognuno di fare la sua parte perché l'Italia non può più essere lasciata sola. D'altra parte, già in mattinata incontrando il Presidente ivoriano Alessandro Attarà, Angela Merkel aveva detto che l'impegno deve essere quello di bloccare il traffico di esseri umani e creare canali di migrazione legali. Tra oggi e domani, nella capitale della costa d'Avorio, dunque, 83 capi di Stato e di governo che rappresentano 1 miliardo e 700 milioni di persone dovranno capire come creare occasioni di lavoro in Africa per frenare le migrazioni. Il punto di partenza è l'Emergency Trust Found for Africa, un fondo creato dall'Unione Europea nel 2015 che avrebbe dovuto avere una dotazione di 3 miliardi e 200 milioni di euro per incentivare iniziative di sviluppo nel lungo periodo. Non tutti gli Stati, però, versarono la loro quota, ma soprattutto, come ha dimostrato un'inchiesta di alcune organizzazioni non governative, molti dei soldi disponibili furono spesi per rafforzare i controlli alle frontiere. In Niger, per esempio, parte del budget destinato all'educazione e alla sanità è stato usato per la sicurezza, ovvero per bloccare la partenza dei migranti. La stessa cosa è successa in Burkina Faso e in Mali.